Musica Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari da Barbara Cirillo. Ha invitato a pregare per chi ha alzato la mano contro di lei auspicando che dall'uccisione di Caterina Susca possa venire un motivo di vita e di ravvedimento da parte del killer e che ci sia da parte di tutti l'impegno a costruire una città più sicura. Così il parroco della chiesa di San Marcello, Gianni De Robertis, durante l'omelia ai funerali di Caterina Susca, la sessantenne uccisa dal diciottenne nigeriano che dopo il fermo ha confessato il delitto compiuto lo scorso 11 novembre nella casa della vittima Torremare. Il sacerdote durante la funzione ha invocato anche la grazia del pentimento e la serenità per tutte le vittime di violenze. Al termine della cerimonia i figli di Caterina hanno voluto salutare la madre prendendo in prestito alcune suggestioni tratte da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. All'uscita il feretro coperto da un cuscino di rose bianche è stato accompagnato da un applauso. Una sala del pronto soccorso del Policlinico dedicata all'accoglienza delle donne vittime di violenza. Oggi l'intitolazione ad Anna Costanzo, il servizio di Silvia Dipinto. Uno spazio isolato, accogliente e sicuro a disposizione delle donne, l'equip medica del pronto soccorso, il medico legale, lo psicologo, il ginecologo e le forze dell'ordine per raccogliere le denunce. In pochi mesi di attività la sala rosa del Policlinico di Bari ha accolto già una ventina di casi. Donne che sono arrivate al pronto soccorso perché vittime di violenze e abusi. Qui hanno trovato personale formato che le ha guidate nel difficile percorso di denuncia, da referto medico al contatto con i consulenti legali. Oggi la stanza rosa è stata intitolata alla memoria di Anna Costanzo, la truccatrice del Petruzzelli uccisa dal suo ex fidanzato. A scoprire la targa i fratelli di Anna che da anni si battono per la lotta al femminicidio. La direzione sta cambiando, però dobbiamo lavorare sia noi uomini sensibilizzando le donne e andando a comunicare ad altri uomini che comunque i media, comunque le istituzioni debbano fare secondo me ancora molto di più. La stanza rosa è solo una delle iniziative messe in campo dal comune di Bari per la tutela delle donne. Un numero verde, numerose case accoglienze, un pronto intervento sociale sono le attività del progetto Binario Rosa, come spiega l'assessore Ludovico Abaticchio. Ha una funzione strategica perché dà l'esempio di come vari professionisti, varie professionalità insieme possono produrre un servizio alla collettività. Il falso documento di valutazione del cism di via tenente Casale dopo il 4 settembre scorso è stata uccisa. La psichiatra Paola Labriola portava la data del giugno 2011. Un documento che, stando alle dichiarazioni del funzionario dell'ASL di Bari che sostiene di averlo falsificato, riportava anche valutazioni dei rischi relativi ed eventuali aggressioni. Il funzionario Alberto Gallo ha confermato oggi di essere stato indotto dal direttore generale Domenico Colasanto a falsificare il documento. Le sue dichiarazioni rese il 21 ottobre scorso agli inquirenti baresi che coordinano le indagini sull'omicidio sono state oggetto di un incidente probatorio che si è celebrato stamani dinanzi al GIP del Tribunale di Bari Giulia Romanazzi. Stando alle dichiarazioni rese da Gallo all'indomani dell'omicidio della dottoressa, il dirigente dell'ASL lo avrebbe indotto a redigere un falso DVR contenente anche valutazioni di rischi relativi a eventuali aggressioni, datandolo giugno 2011 prima che Colasanto fosse nominato direttore generale. E non si placano le polemiche sulla telefonata tra il governatore Nichi Vendola e l'ex responsabile delle pubbliche relazioni dell'ILVA Girolamo Archina. La discussione si sposterà domani in consiglio regionale, lo ha deciso la conferenza dei capi gruppo presieduta da Onofrio in Trona. È stato lo stesso Vendola sabato scorso ad offrire la piena disponibilità ad andare a riferire in consiglio. Non contribuiscono ad elevare la credibilità della politica le spiegazioni di Vendola in un tentativo goffo di voler far credere che chiamava Archina perché aveva a cuore la tutela dei posti di lavoro? E il commento del capogruppo PDL, Innazio Zullo. Non è certo con una telefonata che si poteva pensare di ottenere un risultato di tale complessità. Assemblee provinciali nel prossimo fine settimana. Una regionale entro fine mese in cui potrebbe essere presentato il candidato sindaco della città di Bari. Forza Italia si organizza dopo il Consiglio nazionale di sabato. Ne abbiamo parlato questa mattina in B&G con il coordinatore provinciale, l'onorevole Antonio Distaso. Sentiamo. Non sono scelte che si compiono in 24 ore. Ci sono diverse opzioni possibili. Per noi le primarie sono un'opzione, per alcuni sono la cura, per noi sono uno strumento possibile. Lo che noi vogliamo realizzare invece è un centrodestra il più possibile ampio e coeso con un candidato che sia in grado di fare la sintesi, non che divida. Questo candidato è davvero un flash. Potrebbe essere Domenico Di Paola? È uno dei nomi. Naturalmente si tratta di stabilire come arrivare a scegliere il candidato. Se attraverso una... Perché certe volte, voglio ricordarlo, le primarie possono essere un modo anche di abdicare alle proprie responsabilità. Di dire, noi non siamo classe dirigente, non siamo in grado di scegliere e proporre ai cittadini un candidato. E torniamo a parlare del percorso del Partito Democratico verso le primarie dell'8 dicembre. Cinque delegati per Cuperlo con 2.280 voti e quattro per Renzi con 2.238 voti. Ieri sono stati chiamati alle urne gli iscritti del PD per decidere quali saranno i tre candidati a sfidarsi il giorno dell'Immacolata. A Bari e Provincia Cuperlo la spunta, seppure per una manciata di schede, sul sindaco di Firenze. Con il 53% dei voti invece nel capoluogo vince Renzi. Università in rivolta. Lezioni sospese, assemblee contro i criteri decisi dal ministro Carrozza che penalizzano le università del sud. Il servizio di Silvia Di Pinto. Lezioni sospese e assemblee in tutte le università pugliesi. Anche l'Ateneo e il Politecnico di Bari si mobilitano contro le mosse del governo in tema di università. L'ultima ingiustizia, spiegano i rettori, Uricchio e Di Sciascio, è contenuta nel decreto ministeriale dello scorso ottobre, che stabilisce i criteri per ripartire risorse umane e nuove assunzioni. A Bari negli ultimi due anni sono andati in pensione 300 docenti, ma potranno essere assunte solo 5 persone, spiegano i ricercatori. Mentre a Sant'Anna di Pisa, in cui il ministro Carrozza era rettore, il turnover sarà possibile fino al 964%. E il caso diventa squisitamente politico e la responsabilità ha anche morale. Presenti questa mattina nell'aula Aldomoro, parlamentari di tutti gli schieramenti che promettono di mediare col governo. I docenti si dicono disponibili ad autotassarsi per acquistare spazi pubblicitari sui giornali nazionali e rispondere così alla campagna di comunicazione in atto che vuole far passare le università del mezzogiorno come poco meritevoli e molto piagnone. Non chiediamo mance, ma lanciamo proposte precise, concludono i rettori. Il ministro incontrerà il 28 di questo mese a Napoli tutti gli atenei medionali. Questa è l'ammissione stessa di una colpa e soprattutto è l'ammissione di una politica in questi anni che ha fortemente penalizzato gli atenei medionali. L'assessore regionale alle politiche della salute Elena Gentile ha partecipato oggi a una riunione per fare il punto sulle modalità di pubblicazione sui siti della documentazione web delle aziende sanitarie e sulla nomina dei responsabili anticorruzione sulle questioni relative alle incompatibilità degli incarichi delle ASL. Abbiamo chiesto, ha spiegato l'assessore Gentile e i responsabili delle ASL e delle aziende ospedaliere di mettere l'acceleratore sulla pubblicazione dei siti web di tutte le delibere, atti, gare, bandi e appalti. Insomma, vogliamo che tutto sia accessibile e lo sia al più presso. Non vogliamo che il materiale sia disponibile per pochi giorni. Come dice la legge, deve essere pubblicato per almeno cinque anni e deve essere disponibile tutto, non solo frontespizio sommare, con facilità e fruibilità. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato complessivamente in due distinte operazioni avvenute nel porto di Bari 45 chili di marijuana. Le operazioni sono state condotte in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel primo caso la droga, oltre 12 chili, era stata nascosta nei Longheroni e sotto il pianale di una Fiat Multipla appena sbarcata dalla motonave Francesca proveniente dall'Albania. Nel secondo caso circa 33 chili di stupefacente confezionato in panetti erano stati nascosti all'interno delle portiere di una Citroen C4 condotta da un cittadino di nazionalità greca di 60 anni sbarcata dalla motonave Superfast 2 proveniente dalla Grecia. Entrambi i conducenti delle vetture sono stati arrestati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il porto di Bari, commentano gli investigatori, continua a rivelarsi un crocevia importante nel traffico degli stupefacenti provenienti dai Balcani. A pochi giorni dal debutto del Falstaff di Luca Ronconi al Teatro Petruzzelli il regista ha presentato questo pomeriggio alla libreria La Terza Teatro della Conoscenza un viaggio scritto e documentato da Gianfranco Capitta nella lunga carriera di Ronconi. Sentiamo l'intervista. Teatro della conoscenza o piuttosto conoscenza di sé di Luca Ronconi? Non soltanto conoscenza di me, conoscenza anche del mondo, del mondo che ci sta attorno, delle altre persone. Conoscenza di me non è una cosa importante. Non sarà stato di certo facile ricordare tutti i momenti di una carriera così lunga e ricca come la sua? No, no, no. Quella grazie a Dio la memoria non mi manca, sia delle cose piacevoli che delle meno piacevoli. No, no, me lo ricordo bene. Sono state più quelle piacevoli o più quelle poco piacevoli? Direi più quelle piacevoli. Come ad esempio l'esperienza che sta per andare in scena al Teatro Petruzzelli, quella del Falstaff. Che tipo di Falstaff sarà? È un spettacolo a cui tengo molto, è un'opera che amo moltissimo. L'ho già fatta altre volte, ma mi pare che questa terza volta in cui la metto in scena sia quella in cui mi avvicino di più all'idea che ho dell'opera e quindi adesso si aspetta un po' il giudizio del pubblico. Si sta assistendo sempre di più all'avvicinamento della lirica all'agente comune, non soltanto ai melomani. Ha fatto anche lei questo tipo di operazione? Questo non lo so. Io ho fatto l'opera per come mi sembra che questa opera vada fatta. Non mi sono posto il successo come proposito e come obiettivo. Ho fatto l'opera come mi sembra che l'opera richieda. Spero che l'esito sia quello buono. C'è ancora un sogno nel cassetto? C'è ancora un soggetto che le piacerebbe dirigere? Curiosità ne ho tante, ma mi sono tolto tante, tante, tante di quelle curiosità e soddisfazioni che una di più, una di meno, oramai non ha più tanta importanza. Il Via questa sera, la quattordicesima edizione della musica antica del Mediterraneo, dedicata quest'anno a Carlo Gesualdo da Venosa. Il programma completo è stato presentato dal direttore artistico Dinko Fabris, dal presidente Patrizia Gesuita e dall'assessore al Mediterraneo, Turismo e Cultura della Regione Puglia, Silvia Godelli, nell'auditorium diocesano Lavallise, in cui si è tenuto il primo concerto o dolce martire. Il prossimo appuntamento invece è fissato per il 30 novembre nel castello Normano Svevo di San Nicandro, con parole di suono. E ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo. La perturbazione che sta interessando l'Italia porterà nelle prossime ore ancora piogge temporali su buona parte del paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo sulla base delle previsioni disponibili. Gli esperti prevedono precipitazioni diffuse e molto intense che potranno essere accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento. Il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione civile. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato, infochiocciolelsegnodizorro.it. Inoltre vi ricordo che subito dopo il nostro Tg andrà in onda l'intervista esclusiva per Telebari con il magistrato e scrittore barese Gianrico Carofiglio, incontrato per noi da Cristina Ferrini. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Grazie a tutti.